Sabato dunque appuntamento agli ACA di Piraino, c'è grande attesa? Assolutamente sì, sabato scorso, già la prima edizione, la prima giornata di questo bimbo d'oro che si è svolto a Sant'Angelo ha riscosso grande successo, c'era ospite un ventrilogo di fama nazionale che ha incantato da tante persone presenti alla manifestazione che è stato un vero successo, questo sabato saremo al Palacultura Don Puglisi dove avremo ospite Povia che sappiamo tutti che è un artista di fama nazionale e anche internazionale, già vincitore di Sanremo quindi vi aspettiamo tutti numerosi al Palacultura Don Puglisi per il bimbo d'oro 2024